Torna a Montorio Alvomano la rassegna Concerti in Festa 2015, promossa dalla Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale nell'ambito della stagione invernale del calendario unico di eventi, quattro stagioni per un anno. Montorio così rinnova la sua lunga e rinomata tradizione musicale e concertistica. Si conferma la collaborazione con quella che è la Proloco di Montorio, noi puntiamo molto su questa collaborazione e ancora Natale che si viene a manifestare con questa serie di concerti che la Proloco organizza, quindi come fa tutti gli anni, punto principale per noi è il concerto della banda cittadina, ormai notato in tutta la provincia e una serie di appuntamenti importanti che danno vita al paese durante il periodo natalizio, un periodo natalizio che nonostante difficoltà economiche siamo riusciti comunque a mantenere a un buon livello. Oltre alla Proloco infatti ci sarà come sempre lo Stu che andrà ad arricchire le serate montoriesi, saranno anche altri eventi dedicate ai più piccoli, ai bambini, ed è un Natale che tra l'altro usufruirà di un nuovo presepe che un artista del posto Aldo Vitelli ha creato proprio l'ingresso di Piazza Orsini, realizzato in maniera molto particolare è un po' snaturato quella che è la visione tradizionale, l'iconografia tradizionale, ma è sicuramente una cosa molto particolare da vedere, quindi diciamo che cerchiamo in qualche modo i mezzi che abbiamo a disposizione di poter offrire quello che è un Natale comunque su misura e che faccia vivere poi lo spirito natalizio a questo paese. Grazie.